musica presentiamo qua il nuovo MotoGTG il modello GT300 come vedete ha un telaio in alluminio c'è la vincina dentro del telaio per evitare un po' i volumi e poi così che si vede più importante il sistema di sospensione laterale con l'ammortizzatore che spinge verso il telaio in maniera che come costituzione è molto forte possiamo fare tutto molto più leggero abbiamo levato tanto peso e poi abbiamo lavorato tanto sulla progressione del sistema per avere la funzionalità corretta poi è una moto che abbiamo guidato ho guardato tanto tutto piccolo e particolare dopo l'esperienza di tanti anni di un trial sulle posizioni sui angoli della moto anche sul motore abbiamo come novità un grande hardware motore che ci dà tanta inerzia centrale 5 velocità una frizione a diafragma poi poi abbiamo anche rimesso un po' il reparto di pesi il motore è tanto più basso in maniera che hai un po' più di equilibrio piuttosto più pesante che è un po' più di più che è un po' più di più Grazie.